Questo esercizio ti aiuterà a lavorare sulle tue relazioni in uno stato di profondo rilassamento e controllo delle tue emozioni. Siediti e metti i piedi piatti per terra. Appoggia le tue mani sulle cosce e guarda dritto di fronte a te. Bene, sposta ora lo sguardo in alto, in un punto in alto e ancora il tuo sguardo lì senza spostare la testa, guarda un punto in alto. Adesso respira molto profondamente, inspira ed espira. Inspira ed espira. Ora, ti chiedo, mantenendo lo sguardo lì, di tenere gli occhi aperti quando l'aria entra e di chiuderli quando l'aria esce e di continuare semplicemente così. L'aria entra e tieni gli occhi aperti. L'aria esce e tieni gli occhi chiusi. Gli occhi si chiudono. L'aria entra e chiudi gli occhi quando l'aria esce. E continua semplicemente così. Perché ci sarà un momento in cui i tuoi occhi saranno chiusi. Chiudi gli occhi quando l'aria esce. E senti gli occhi vibrare. Le palpebre si chiudono. Vogliono scaldare i tuoi occhi. Sempre più pesanti i tuoi occhi adesso. Sempre più pesanti. E puoi chiudere gli occhi ora, respirando profondamente e lentamente, chiudendo gli occhi adesso. E puoi sentire come la palpebra riscalda i tuoi occhi. E rilassa tutti i muscoli attorno ai tuoi occhi. E rilassa la tua fronte. E rilassa il tuo volto. E prima di lasciarti andare completamente, ascolta attentamente ciò che ti dirò, perché succederà automaticamente, quasi senza pensarci. E mentre la tua mente conscia si rilassa sempre di più, e la tua mente inconscia ascolta profondamente tutto ciò che accadrà. I muscoli attorno agli occhi si rilassano, automaticamente, mentre continui a respirare, facilmente e liberamente, entrando in una profonda, pacifica meditazione. Non c'è nulla di importante da fare con la tua mente consapevole. Non c'è nulla di veramente importante se non te stessa. E puoi entrarci automaticamente, quasi come sognare. E sai che puoi facilmente dimenticare i tuoi sogni quando ti svegli. e stai rispondendo molto bene, senza accorgertene. Hai già modificato il ritmo della tua respirazione. respirando molto più facilmente e rivelmente. E stai rivelando i segni che stai iniziando a scivolare in un profondo stato di rilassamento. E il tuo subconscio ascolterà ogni parola che ti dirò. E stai continuando a entrare in uno stato sempre più profondo, mentre osservi interiormente la tua mente, segreti, emozioni, sensazioni e comportamenti che non sapevi di avviare. E ancora, allo stesso tempo, la tua mente sta risolvendo quel problema al ritmo del tuo respiro, con la stessa rapidità con cui ti prepari a rilassarti e sei lì con i piedi piatti per terra, le mani sulle cosce e gli occhi chiusi. perché la tua mente corrisponderà automaticamente a tutto ciò che vuoi, rimanendo piacevolmente sorpreso dai tuoi continui progressi. E ogni volta sarà sempre più profondo ogni volta che ripeti questo esercizio. e tutte le sensazioni che vengono automaticamente da questa esperienza. e puoi avere come una sorpresa prima o poi, una sorpresa molto piacevole, immaginando te stesso in un posto che ti piace molto un lago un oceano e forse stai galleggiando dolcemente su una barca a vela in un lago tranquillo in una calda giornata estiva e ti continui a rilassare sempre di più e continui a stare sempre meglio perché questo è il tuo mondo e ti piace molto e scoprirai ogni volta che vuoi trascorrere qualche minuto in tranquillità rilassandoti e sentendoti completamente a tuo agio puoi automaticamente tornare a questa sensazione che stai vivendo adesso e adesso qualcosa di importante accade una persona molto importante per te vuole parlarti può essere un amico una persona cara un familiare una persona che ti ha ispirato o una persona che ti vuole bene o che ti ha voluto bene che ti ha fatto del bene che ti ha fatto sentire davvero bene e ha portato in te un sorriso la felicità delle emozioni positive e puoi vedere questa persona adesso ricordare il suo volto le sue mani il suo sguardo e la sua voce è qualcosa davvero importante da dirti che tu porterai come una lezione con te e puoi ascoltare la sua voce adesso adesso unisci l'indice al pollice della tua mano destra e ascolta la sua voce ascolta ciò che hai da dirti ascolta le sue parole o se non ci sono parole ascolta il suo sguardo e porta con te questo messaggio unendo il pollice e l'indice della mano destra associa questa lezione queste parole queste emozioni che porterai per sempre con te adesso prendi il tempo per assimilare queste parole questo momento questo incontro e assorbi completamente questo momento queste parole di questa persona davvero importante per te e adesso io vorrei che mentre sei lì seduto con i piedi gatti per terra le mani sulle cosce tu possa assimilare a tutte le emozioni positive che questo incontro ha portato con te e fai un respiro profondo adesso e ora un'onda piacevole di rilassamento assorbe tutto il tuo corpo dalla sommità della testa fino giù alla punta dei piedi un altro respiro grande adesso e ancora un'onda blu di rilassamento dalla sommità della testa alla punta dei piedi e ancora una volta fai un grande respiro adesso e una grande onda di rilassamento avvolge tutto il tuo corpo adesso ora conterò da 1 a 3 e al mio 3 potrai rieganciarti al contesto che ti aspetta 1 l'energia ricomincia a fluire in tutto il tuo corpo adesso 2 la respirazione si fa sempre più superficiale 3 riapri gli occhi 3 e al prossimo 3 e al prossimo e al prossimo